Sono al mio fiumiciattolo, ogni volta che ci arrivo, che vengo ci trovo comunque dei funghi nonostante ci sia stato il disastro di tutti questi cretini che vengono, entrano, sperperano, conoscono i funghi, c'era una bellissima manite, l'hanno fatta fuori, me lo immaginavo. Questo è un bel fungo, ora lo caverò, si sente il rumore dell'acqua, del torrentello, è un pezzettino, una puntina proprio appena accennata di terra, è una delle zone più ricche di funghi, sto rimontando per farvela vedere. Qui c'è l'argine, si scende il sentiero, dal sentiero si va qua e poi piano piano lo si percorre ai lati, a monte e a valle, sono tutti i posti di funghi. Si gira, si gira ancora, questo è il sentiero, a 20-30 metri si scende sulla destra, si scende giù, qui c'è là una pianella e là c'è l'acqua, scorre l'acqua, eccola là. Ora vado a cavare il fungo, che è dove ho lasciato il pastone. Vediamo se lo si vede anche da qua. Eccola là. Sto...